gentili telespettatori tifosi di tutto il mondo tifosi vicini tifosi lontani ma soprattutto tifosi napoletani bentornati come vi ho visto diciamo che non è proprio una buona sera per i tifosi napoletani visto che comunque ieri è arrivata questa sconfitta nei quarti di finale d'andata contro il milan una sconfitta ahimè immeritata secondo me per quello che gli azzurri hanno espresso in campo napoli che io comunque voglio veramente fare gli applausi a questi ragazzi perché hanno comunque dimostrato di essere competitivi di saper competere al di là di tutte le di tutti gli errori comunque che no di tutti gli errori di tutte di tutti comunque le appunto le assenze le forti assenze quelle di osimen e di simeone che comunque sono sentite molto ieri nella nella gara però il napoli comunque era riuscito a partire bene ha approcciato bene la gara proprio nei primi minuti ha avuto un'occasione colossale con con varaschelia clamorosa che poi è stato salvato praticamente il tiro sulla linea da da calabria quindi napoli anche un po sfortunato e questo c'è c'è da dirlo però milan che comunque è riuscito ad avere la meglio grazie poi a una ripartenza del solito brain diaz il piccoletto brain diaz che è riuscito alla fin fine poi a trovare sempre un barco è uno spazio e comunque ha servito ben anzieri che col sinistro ha beffato sull'angolo sull'angolo meret che dire sconfitta meritata il napoli non meritava di perdere si è sentita molto molto ancora una volta oggi l'assenza di osimen che però spalletti ha dichiarato al 100% la sua presenza al ritorno quindi io mi auguro che spalletti ora col verona non non faccia stupidaggini che non lo rischi e che lo conservi appunto per martedì che secondo me la sfida a questo punto più importante di tutta la stagione più importante secondo me ancora della juventus che avremo domenica sera per il match di campionato per quanto riguardano le pagelle che dire io do comunque 6 sufficiente alla prestazione del napoli perché non si può dire che il napoli ha giocato male anzi il napoli ha giocato un'ottima partita però però l'arbitro ci ha messo del suo perché onestamente ammonire di Lorenzo per proteste poi che fai ammonisci Anghissà e qualcun altro e poi c'è butti fuori Anghissà no? e poi Krunic che dà tanti calci che fa tanti falli insieme a Teo Hernandez non lo ammonisci? e no così no sta bene tanto è vero che addirittura pensate un po' un ex calciatore del Milan questo lo ha detto e Clarence Seidorf ha criticato molto l'arbitraggio dicendo che se hai impostato di arbitrare una gara in una maniera non puoi appunto poi scomporla e arbitrarla in un'altra maniera alla fin fine quindi secondo me l'arbitro si doveva mantenere per come stava andando la gara la gara anche se il napoli era su 1 a 0 era normale però di certo l'espulsione ci ha demoralizzati e ci ha diciamo secondo me tolto un po' le speranze di un possibile parigio anche se il napoli comunque con l'entrata di Politano e Don Belli qualche cosa comunque in più è riuscito a creare però secondo me alla fin fine l'uomo, gli due uomini diciamo portanti del Milan di ieri sera secondo me gli unici, anzi gli unici tre secondo me portanti del Milan di ieri sera sono stati tre un po' leao perché poi vabbè che doveva essere espulso ebbè però non mi voglio cimentare Meignan che ha fatto il top player che ha dimostrato di essere secondo me fra i portiri d'Europa più forti e poi Ben Nansede perché ha trovato comunque il gol decisivo per i rossoniri il Napoli però al di là della sconfitta ha dimostrato che con qualche attaccante in più secondo me in campo con meno riserve e più titolari il Napoli questa partita al ritorno la può rimontare io sono convinto che il Napoli ci proverà a rimontare tenterà di rimontarla secondo me mi aspetto e mi auguro come vuole Spalletti uno stadio pieno perché io sono stufo di queste proteste che sono in questo momento ingiuste perché stiamo vivendo un momento storico e non sono ammesse onestamente io non le accetto io non le accetto proprio quindi mi auguro che ci sia concentrazione che ci siano 11 leoni e che lo stadio sia pieno per indebolire questo Milan psicologicamente perché non possiamo uscire così onestamente da fastidio quindi che dire vi auguro una buona serata le pagelle ho detto per me sono tutti sufficienti vi auguro una buona serata un caloroso saluto e forza Napoli sempre ora testa al Verona comunque domenica perché noi comunque dobbiamo chiudere questa pratica campionata e dobbiamo vincere queste due tre partite per arrivare all'aritmetica finale forza Napoli forza Napoli ciao 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 Grazie a tutti.